Da Disney Video un mondo magico che sarà tuo da custodire per sempre Mi vuoi spiegare perché stiamo andando in Colorado? Che noi fonte di legno abbiamo un appartamentino molto colorato Però non ci sta Dylan Beh chi è? Chi è sto Dylan? Che io per il gioco sono una specie di drogato, di alcolizzato Ma ti giuro che da adesso in poi cambierò Ti amo, I love, mi tifarei, ad Aspen mi tifarò, ma è panza! Mettimi giù, lasciami! Tu mi devi settecento? Mila Dollari Signor Perry, ho fatto 12 ore di aereo per arrivare fino qui, sono un suo fan Alla sua età? Tu hai conosciuto Dylan Guarda che io e Dylan siamo così, come dite voi a Roma, pappiciccia Non ho capito la richiesta, puoi ripetere? Se tu mi fai trombare la tua moglie, io ti cancello il debito Preso! Ah! No! No! No, così me lo allunga! A poco, a poco! No, no, sono salvo, sono salvo, 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 salvo I froci, tacci loro, non so capitato Ma quella sei tu, altro che gemelle siete identiche Ma anche di culo siete due gocce d'acqua, precise E vai, bella vergogna d'usso tuo! Come on! Will come true Me and you La 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 Disney DVD e videocassetta. Unisciti ai personaggi Disney più amati nelle loro avventure più famose e più divertenti. Con Topolino, Paperino e naturalmente Pippo. C'è qualcosa che non va. Con giochi interattivi e curiosità. Porta a casa tua le avventure classiche per tutta la famiglia. Il mio eroe Topolino. Il mio eroe Paperino. Il mio eroe Pippo. Solo in Disney DVD e videocassetta. Ottima idea. Walt Disney Pictures presenta i film Pixar Animation Studios. Aggrappati al guscio, bello. Oh, che sballo. Se vi è piaciuto alla ricerca di Nemo. Sei un campione nato. Impazzirete anche per questi altri capolavori dell'animazione. Ripassiamo la mia scena preferita. Che ne dite? Mitico. Di più. Non perdetevi i vostri film preferiti. Tu sei un giocattolo di grande valore, Woody. Per una serata di puro divertimento per tutta la famiglia. Che è un musical? Su, riporta quell'affare dove stava diretta. A me, a me, a me, a me. E stop. Pubblico tosto. Ehi-hah! Wow! Corri come il vento! Bonsai! No! Oh! Sto benissimo! Verso all'infinito! E... Walt Disney Pictures presenta i film Pixar Animation Studios. Stai volando! Questo non è volare. Questo è cadere con stile. È troppo bello per essere vero. Questo è senz'altro il grande momento di Woody! Sono contento che tu sia tornato, Mike. Qualcuno deve purpare la te grossa palla di meno. Comincia subito a collezionare questi DVD di grande successo. Spero che ci diano una copia della cassetta. Mio. È un vero Walt Disney? Solo se ha la garanzia di autenticità e qualità dell'ologramma argentato ed il marchio Univideo presenti sulla confezione. Non accettate i falsi. Esigete sempre e solo videocassette originali Walt Disney Home Video. Non accettate i falsi. 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 Grazie.